Leonardo, vuoi parlarmi di questo particolare coltello? Questo è il coltello dell'amore. È un coltello che si regalava un impegno d'amore fra fidanzati. Ha una forma fallica, dovrebbe ricordare, è una forma fallica. E ha questi occhi che praticamente dovevano scacciare in malocchio. E ha un meccanismo che si chiama scrocchio che fa questo rumore. Questa volta l'ho fatta grossa. Noi ci vediamo al paese dei mestieri. Forse. Reteconomy. La nuova visione dell'economia.